Ecco, qui c'è scritto «È una bella mattina di primavera, meglio vivacizzare un po'. Per esempio, potrebbe essere la stagione in cui la linfa cresce in modo quasi indecoroso. E qui? Sì, qui, la scena con gli ossa. Ho scritto «Lei mi sfiorò passando accanto a me all'osiva con gli occhi azzurri, so chiusi e la bocca semiaperta». È equivoco. Equivoco vende, credi, mi serve più pepe, non letteratura. So quello che gli uomini e gli editori vogliono. Pensi che funzionerà? Sì, Hollendorf ne andrà pazzo. Come è successo a te quando l'hai letto? Lascia perdere quella storia, avanti, bisogna lavorare. Lavoro, lavoro, lavoro. Claudine è una ragazza di un piccolo villaggio, eppure lei è tutte noi. Ribelle, esuberante, egoista e sensuale. Ci stupisce con la sua determinazione, i suoi desideri, i suoi misfatti. Solo un uomo straordinario poteva ritrarre questa moderna, giovane donna. Willy, il vostro libro cambierà il mondo. A Claudine! A Claudine! A Claudine! A Claudine!